30 società, 100 squadre iscritte, quasi 200 gare in programma. Sintetizzando in sole tre parole, Plasmon Baby Cup. Nello splendido scenario dei campi sintetici del centro sportivo Agora Fitness di Latina, il Plasmon Baby Cup, torneo calcistico giovanile che si svolge tutti gli anni nel mese di giugno, si preannuncia quest'anno particolarmente appassionante e divertente. La manifestazione, organizzata dalla S.D. Gila Socce con la collaborazione di Broker Sport e Accademia Sport, è potuta crescere nel tempo ed affermarsi come uno dei più importanti tornei giovanili della legione, grazie al sostegno della Plasmon, importante brand a livello nazionale che rivolge il proprio target proprio al mondo dei più piccoli. La Kermess, nata da un'idea di Giuseppe Moschetta, coadiuvato dai massimi dirigenti aziendali, vedrà dunque sfidarsi tra loro, in un clima di grande feste ed amicizia, 100 squadre di 30 diverse società, costituite da ragazzi nati tra il 2004 e il 2009, suddivise dall'organizzazione in 6 diverse categorie. Il torneo sarà ripreso nelle sue fasi finali dalle telecamere di Mondo Fuzz al TV e darà la possibilità a tutti coloro che vorranno conservare un ricordo della manifestazione di poter avere un DVD personalizzato dell'evento con la cronaca delle partite commentate da giornalisti con esperienza nel settore. I migliori momenti e le premiazioni conclusive saranno poi disponibili su youtube.com slash mondofuzz al TV, link raggiungibile anche attraverso la pagina ufficiale Facebook del torneo, dove sarà possibile trovare anche le migliori foto della manifestazione. Plasmon Baby Cup, il torneo del biscotto, una festa col botto.